Ci troviamo al Palabanca, da pochi minuti è iniziato il primo allenamento stagionale dell'LPR Volley, una squadra che agli ordini di coach Giuliani si presenta profondamente rinnovata nel suo organico. Una stagione che si annuncia davvero entusiasmante. Inizia la quattordicesima stagione sempre a Piacenza, insomma le bandiere esistono ancora? Sì, penso proprio di sì, ne sono la testimonianza, nel senso che avevo fatto i tempi una scelta e sono contento di averla potuta trascinare fino ad adesso, trascinare e portare avanti perché insomma di strada ne abbiamo fatta tanta, abbiamo vinto qualcosa, abbiamo lasciato per strada qualcosina e sono fiero di iniziare la quattordicesima con dei bei obiettivi davanti. Ecco Zlati, le ultime due stagioni sono state un po' varie di soddisfazioni, però l'anno scorso alla fine avete fatto vedere qualcosa, quest'anno con una formazione profondamente rinnovata, gli obiettivi quali sono? Gli obiettivi sono quelli di riuscire a fare, di andare più avanti possibile, se possibile disputare qualche finale, mi riferisco alle coppe. Poi un campionato è lungo, molto equilibrato come al solito, quindi bisogna, la chiave sarà tutta nella partenza, se avremo una buona partenza secondo me potremo avere una grandissima stagione. Reduce dalle vacanze Guido Molinaroli, il presidente ha buone sensazioni future che affondano nei ricordi allo storico scudetto del 2009. Lei ha detto che questa squadra non ha niente da invidiare a nessuno, conferma? Sì, lo confermo perché mi sono messo a fare analogie con il 2009, perché poi quando fai in mente locale dopo alcuni anni pensi se effettivamente erano tutti campionissimi o se c'erano anche dei bravi giocatori o se la maga aveva funzionato e questo erano dei casi, perché forse avevamo avuto delle squadre nel passato molto più forti di quelle del 2009 e poi non abbiamo vinto per tanti fatti o perché c'erano squadre più in forme, squadre... noi diciamo che quest'anno in teoria partiamo come minimo come la squadra del 2009, che vuol dire arrivare, poi arrivare quinto, sesti, quarti, può capitare di tutto, perché poi dipende dagli scontri diretti ma dipende anche contro le squadre ufficialmente più deboli. È un campionato secondo me ancora più competitivo dell'anno passato. Si aspetta tanto anche il vicepresidente Roberto Pighi, ormai diventato un tifosissimo. Di chi ne sa più di me ci vede tra le prime cinque e sei posizioni, chi è un po' più generoso ci vede nella quarta posizione mettendoci quantomeno allo stesso livello di Trenta e Verona, quindi direi che, mi stupirei che quest'anno non fossimo veramente vicino ai primissimi, dipendentemente che mi dicono che quando si è vinto il campionato non si è vinta la regola a Siso, quindi può andare bene anche un terzo o un quarto posto, se poi questo deve darmi delle soddisfazioni posteriori. Si ricordi che per me quello che è importante è veramente l'atmosfera del Palabanca. Cioè io veramente voglio che il Palabanca... Ho chiesto il regalo di matrimonio a Coach, di postergarmelo al 2 di ottobre, vincendo in casa col Perugia 3 a 2, visto che l'anno scorso ci aveva dato di essere una squadretta, se ricordo bene. Tra i ritorni, oltre a quelli del centrale Aimone Alletti, proveniente da Milano, anche quello del cubano, Leo Marshall, da queste parti davvero indimenticato. Finalmente, dopo sei anni che ero all'estero, ho deciso di tornare perché, come avevo promesso prima di andarmene, era il posto giusto per ritornare in Italia, quindi ho fatto come promesso. Senti, la cittadinanza italiana quanto manca? Stiamo aspettando, tutti aspettano questo arrivo, penso che mancherà poco, sono cose burocratiche che si saranno tempi brevi per finirle, però sta andando bene. Tutti i tifosi si ricordano il Marshall di qualche anno fa, quello che faceva i buchi per terra, oggi può ancora dare quello Marshall? Ma guarda, sicuramente sono un giocatore diverso, sono un giocatore che è un po' più maturo, perché ho 36 anni, quindi faccio altre cose che non solo è la spettacolarità, quindi riesco a essere un giocatore che fa più gruppo, che fa delle cose che possono servire per le squadre, quindi le individualità che avevo prima magari si sono ancora, però a un livello limitato, perché con l'esperienza si guadagna molto più per aiutare le squadre. Ad accogliere la squadra un gruppo di tifosi storici, intanto la campagna abbonamenti prosegue, già bruciate le prime 500 tessere.